Salve ragazzi, oggi siamo a Bolsena e oggi tra l'altro è Pasqua, quindi approfitto per farvi gli auguri di Pasqua. Auguri! In questo periodo purtroppo di guerre, di brutte situazioni che ormai sappiamo tutti all'estero, dai un pensierino a quante persone in questo momento stanno soffrendo. Ma adesso riprendiamo il nostro solito tragitto, quindi adesso andiamo a vedere Bolsena, che è un borgo della Tuscia sempre, da sul lago di Bolsena appunto, quindi questa cittadina dà il nome anche al lago, lago che abbiamo già visto se vi ricordate quando abbiamo fatto il video sul Capodimonte. Allora a questo punto non resta che dirvi come al solito, seguiteci! Eccoci qui all'ingresso del borgo di Bolsena, qui vedete una bella porta, ma questa stradina la percorreremo più tardi perché andremo in quella viuzza lì giù dove ci hanno detto degli abitanti del posto che ci sono molte cose da vedere. Intanto qui possiamo vedere la chiesa di San Francesco del XIII secolo. La chiesa di San Francesco del XIII secolo. Sì, c'era annesso tra l'altro anche relativo convento. Ah, certo, comunque le chiese di San Francesco sono spazio... Sono numerose e spaziano dappertutto. Accidenti! Oh e poi guardate qui, non c'entra niente con le cose artistiche, però guardate qui che bello spazio, vedete molto ampio, qui ci sono i tavolini e noi sicuramente, più tardi che dici Paoletta, più tardi ci andiamo a riportare? Eh, mi sono già informata! Ti sei informata? Eh certo! Più tardi, oddio! Perché la professoressa, voi non lo sapete, ma la professoressa oltre che a cibare la mente, la sua mente con libri, peschi, chi più ne ha più ne metta, eh beh si riciba anche di varie cose, diciamo, tra cui i formaggi e i salumi. La mia passione i formaggi! Quindi, eh ma uno un poeta, uno diciamo una professoressa dovrebbe accontentarsi semplicemente della cultura, no? Eh sì, va bene! Non funziona così? No, vale di no! Ok, allora, intanto proseguiamo il percorso, vedete, questa è una delle vie di Bolsena e vedete che è sicuramente anche questo un posto molto curato, molto pulito, i bambini giocano e diciamo che c'è quella serenità che, come dicevo, in questo momento un po' tutti ne abbiamo bisogno. Oggi abbiamo preso una bella giornata di sole, ma in me... intanto è accaduto una cosa che stava per annarmi in testa e qui si chiudeva il video no, dicevo, è una bella giornata di sole ma con molto vento, forse lo sentirete nel microfono che adesso cerco di riparare in qualche modo. Va bene, ci vediamo troppo. Bene ragazzi, eccoci davanti alla chiesa. Che chiesa è? Questa non è un so, semplicemente una chiesa. Non è semplicemente una chiesa, quindi già mi ha... È un complesso monumentale. Quindi mi hai bocciato già, no? Perché è formato dalla chiesa di Santa Cristina, dalla cappella detta del miracolo e dalle catacombe. Per cui è veramente un gruppo monumentale, ben articolato, ben preciso e più complesso di una semplice chiesa. È rinascimentale nella facciata, all'esterno ed è medievale all'interno. Per banco, e tutte queste cose sono? E tra l'altro come puoi vedere ci sono queste lunette che sono molto molto belle, tipiche del periodo rinascimentale, cioè con questo sfondo azzurro in maiolica e con le figure in rilievo invece nel colore bianco, avorio, diciamo, perché altro. Davvero una bella soluzione. È stata usata questa tecnica anche da diversi scultori all'edona. Senta professoressa, dunque per aver chiamato questo complesso monumentale, averlo semplicemente chiamato a chiesa, che voto, migaristi? E che c'entra? No, no, dimmi. Non ti dò nessun voto? Proprio niente, non merito neanche un 1, un 2, dai. Non mica stiamo a scuola? Vabbè, niente, mi ha dato praticamente niente non classificato, come si dice. Non classificato. Bene ragazze, adesso noi ci muoviamo, entriamo in questa chiesa e come dico tutte le volte, per rispetto della sacralità del posto, io tacerò. E voi direte, meno male. E voi direte, meno male. E voi direte, meno male. E camminando camminando eccoci qui che arriviamo a una bellissima fontanella, la fontana di San Rocco, si dice che intanto venisse qui a adeverarsi, c'è questa storia poi, è stata dedicata addirittura a una piazza, intanto mi cola il naso, notizia che a voi molto interessa, ma un po' il vento, un po' che ahimè soffre un po' di allergia e il naso comincia a cocciolare, coccia un pochino forse come queste fontanelle, comunque è veramente graziosa questa fontanella, vero? Sì, molto. Sì, tutto bello, quindi è abbastanza antica. Eh sì. Non è stata fatta tipo due anni fa. Eh direi proprio di notte. No eh, eccola qua. Come vedi in tutto il paese, infatti ci sono cose tantiche. Molto molto bella, sì. Professoressa, che c'è scritto qui su questo cornetto? Antisfiga. Antisfiga, che dici la tocchiamo? Io no. Tu no, io sì, ecco qua. All'ingresso di questo che dovrebbe essere un albergo? Sì, un hotel. Sì, un hotel. Bene, nella wall di ingresso potete vedere che c'è un'antica carrozza dell'epoca. Facciamo sempre un certo effetto quando si vedono le cose di tanti tanti anni fa. Qui possiamo vedere anche degli abiti, immagino dei nocchieri. Ve ne vediamo un altro. Eh, pensate un po' quando le persone camminavano utilizzando questa carrozza. Eh, c'avevano anche le balestre, quindi era molleggiata, quindi forse era anche un pochino comoda. Comunque questa la troverete dentro questo Vesconte, che è un hotel. E nella parte alta di Bolsena siamo così giunti avanti ad un castello, quel che sembra un castello. Cos'è, professoressa? No, è la Rocca, la Rocca monabesca di Cipana. Perché ormai conoscerla. Le prime notizie le abbiamo intorno a 1856, sotto il papato di Adriano IV, che fece fortificare gran parte dei borghi localizzati sulla via Cassia, a difesa naturalmente delle impulsioni barbariche. Ah, beh, invece qui cos'è quella chiesa? San Salvatore. San Salvatore, molto bello, ma se travi i giovani non mi sbaglio. È il XIII secolo. Vedi che piano piano anche gli asini piano piano imparano, vedi? Molto, vedi, con questa facciata piuttosto semplice, però con quel rosone, con i vetri colorati. C'è questo tocco, diciamo, un po' che esce fuori proprio dallo scarno del Romanico, proprio quello semplice semplice. Sì, l'hanno un pochino, diciamo, adattato ai tempi, l'hanno modernizzato all'epoca. E proviamo ad andare avanti. Ecco qui, allora qui ci dovrebbe essere proprio, e così adesso a naso, ci dovrebbe essere l'entrata proprio del castello. Vediamo. Sì, 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 è proprio l'entrata del castello. Da sopra possiamo vedere anche delle belle, degli spiazzi dove ci sono locali che in questo momento sono chiusi, perché come dicevamo è Pasqua e quindi diciamo che i ristoratori hanno approfittato anche loro per fare festa. Ecco, allora noi siamo appena entrati nel castello, proprio un vero e proprio castello, vedete, con la torre, con le mura in pietra, proprio tipiche. Qui, vediamo una serie di palle, non quelle che io vi racconto, ma credo che siano palle che lanciavano con... Con il fuoco. Beh, con il fuoco c'era una fantasia professoressa, su, con il fuoco. No, le lanciavano una specie di catapulta immagino, addirittura con il fuoco, proprio gli volevi male ai nemici. Siamo a questo punto all'entrata, all'ingresso, proprio dentro, dentro quel castello che vi ho fatto vedere prima. La mia voce adesso è un po' attutita perché ancora siamo obbligati a utilizzare le mascherine. Qui c'è un museo dove ci sono tutti i reperti, tutti i reperti dell'epoca. Sì, il vasellame etrusco. Il vasellame etrusco, qua si vede proprio bene il vasellame. Vedete, se ci avete seguito, notatela come somigliano al vasellame che abbiamo visto realizzare a Capodimonte, da quell'artista, che appunto utilizzava esattamente le stesse tecniche. Per cui, va bene, questi sono ovviamente gli originali, ma l'artista, l'artigiano di Capodimonte in realtà realizza proprio delle cose molto 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 simili. Questa è proprio la riprova che l'artigiano non si sbagliava con la sua tecnica. Ecco, qui vediamo quelle che sembrano dei pugnali. E comunque sono tutti oggetti che poi sono stati ritrovati all'interno delle tombe etrusche. E qui in zona ce ne sono ben due, una a Cerveteri e l'altra a Tarquinia. Allora, a questo punto cominciamo a salire la torre. Ti pare che non si deve sempre salire? Ma certo che sì. E allora lo facciamo, però è una scala abbastanza agevole che addirittura posso fare anche io. Pensate un po'. Ecco, siamo arrivati diciamo al primo piano dove c'è altro vasellame. Ecco, vedete, ci sono tutta la serie di teche, tutta la serie di teche con ammenicoli vari. E adesso inizia la parte più impegnativa per noi perché adesso bisogna salire sopra, sopra, sopra la torre. E c'è questa scalinata, che non so se riesco a farvi vedere, una scalinata a chioccio. Io e me, io e la professoressa, e noi dobbiamo salire. E saliti sopra la sommità del castello, qui potete vedere una delle torre, da sopra c'è un panorama che è mozzafiato. Possiamo vedere la chiesa e poi tutto, tutto, tutto a 360 gradi, una panoramica strepitosa, veramente strepitosa. Con in lontananza il lago, che adesso vedo di inquadrare meglio da... Ecco, vedete? C'è proprio il lago in lontananza. E sulle immagini di questa spettacolare veduta del lago di Bolsena, noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!